Che è stesse minfonate? E l'uomo è sempre l'uomo, no? Ma che ci può venire in mente la donna? Che è giusto che anche la moglie si è messa al pari con il marito sotto tutti gli effetti. Penso che sia anche l'uomo capo di famiglia. E' lui che porta a casa i soldi per andare a fare la spesa. E' sempre l'uomo che comanda, no? Anche che la legge c'è. Non essere uguali ai diritti come ai doveri a un certo punto. Perché ai tempi dei cose dei bravassori è ormai finito da tanti anni. Grazie.